Gli Agarwal avevano la loro opinione sui motivi che avevano portato Srila Prabhupada in America, finanziare i suoi libri e nient'altro. Erano sicuri che la sua unica aspirazione fosse quella di incontrare qualcuno che poteva aiutarlo nella pubblicazione del suo Srimad Bhagavata e che non desiderasse seguaci. Almeno speravano che non avrebbe fatto nulla per attirare l'attenzione ed erano del parere che questo fosse anche il suo modo di pensare. Non cercava di dare spettacolo, dice Sally Agarwal, non cercava le folle, non voleva nient'altro che raccogliere fondi per pubblicare i suoi libri. Forse Srila Prabhupada, vedendoli così ansiosi, aveva pensato di non mettersi troppo in luce per la considerazione che aveva dei suoi ospiti. Su richiesta di Srila Prabhupada comunque, il signor Agarwal teneva una specie di dibattito aperto nel suo appartamento ogni sera dalle sei alle nove. Sally racconta, il nostro gruppo era formato da persone di una certa cultura e lui affascinò tutti. Non sapevano bene che cosa chiedergli, non ne sapevano abbastanza, era come un sogno uscito da un libro. Chi si sarebbe aspettato di trovare uno Swami in un salotto di Butler in Pennsylvania? Era davvero incredibile, nel mezzo della borghesia americana. I miei genitori, anche se abitavano abbastanza lontano, vollero venire a vederlo. Conoscevano diverse persone a Pittsburgh e vennero anche loro. Era un avvenimento veramente straordinario averlo qui con noi, anche se in fondo l'interesse che tutti dimostravano era soltanto curiosità. Aveva una macchina da scrivere, una delle poche cose che possedeva, e un ombrello. Questa era una delle cose che colpiva, il fatto che portasse sempre con sé l'ombrello. Faceva un po' fresco e lui era calvo, perciò portava sempre un berretto che qualcuno gli aveva fatto, qualcosa che assomigliava a una cuffia da bagno. Ed era così brillante che quando vedeva qualcuno per la seconda volta, sapeva chi era, se lo ricordava. Era davvero un uomo brillante? O se incontrava delle persone a casa nostra e poi le vedeva in macchina, si ricordava come si chiamavano e le salutava con la mano, chiamandole per nome. Era un uomo brillante, piaceva a tutti. Rimanevano tutti colpiti dalla sua intelligenza. Quello che li conquistava di più era il fatto che ricordasse il loro nome. Anche il suo senso dell'humor sembrava sempre molto serio, ma aveva un grande senso dell'umorismo. Il suo aspetto era severo, ma aveva un fascino tutto speciale. Era l'ospite meno difficile che avessi mai avuto, perché quando non avevo tempo da dedicargli, si metteva a recitare le sue preghiere e sapevo che si sentiva perfettamente felice. Quando non potevo parlare con lui, si metteva a pregare. Mi sentivo a mio agio perché sapevo che non si annoiava mai. Non mi sono mai sentita tesa o forzata a causa della sua presenza. Era così accomodante che quando dovevo andare a prendermi cura dei bambini, restava lì a pregare ed era soddisfatto. Quando dovevo fare qualcos'altro, gli bastava pregare per essere felice. Era un ospite meraviglioso. Quando venivano a trovarmi degli amici e fumavano, lui diceva, non importa, non fa niente. Ecco quello che diceva, non fa niente. Sapeva che eravamo diversi. Io non fumavo mai davanti a lui. Sapevo che non dovevo fumare davanti al padre di Gopal e mi sembrava un po' la stessa cosa. Non creava mai problemi a nessuno. Una sera un ospite chiese a Prabhupada, che cosa ne pensa di Gesù Cristo? E Prabhupada rispose, è il figlio di Dio. Poi aggiunse che anche lui, l'ospite, era un figlio di Dio. Tutti trovarono molto interessante il fatto che lo suami accettasse Gesù Cristo come il figlio di Dio. Gopal. Le sue intenzioni non erano quelle di farti cambiare il modo di vivere. Non diceva a nessuno di diventare vegetariano o qualcos'altro. Tutto quello che chiedeva alla gente era di seguire quello che già stavano facendo, ma di diventare migliori. Non dava molta importanza al fatto di abbandonare le vecchie abitudini. Shri la Prabhupada seguiva ogni giorno un programma regolare. Ogni mattina andava a piedi allo IMCA, agli appartamenti Sterling, dove arrivava verso le sette dopo aver attraversato sei o sette isolati. Al suo arrivo a New York aveva nel suo bagaglio un grosso involto di cereali essiccati simili ai fiocchi di avena. Erano sufficienti per diverse settimane e ogni mattino a colazione ne prendeva un po' con il latte. alle otto meno un quarto Gopala usciva per andare al lavoro e verso le nove e mezza Prabhupada cominciava a prepararsi il pranzo in cucina. Faceva i ciapati a mano senza nemmeno il mattarello. Lavorava da solo per due ore mentre la signora Agarwal si occupava dei bambini e delle faccende di casa. Alle undici e mezza prendeva il prassana. Sally quando cucinava usava un fornello solo. La pentola in basso produceva il vapore. Sul fondo c'era il dal che creava il vapore per cuocere molte altre verdure. Per circa una settimana aveva cucinato questo gran pranzo che era pronto verso le undici e mezza e Gopal veniva sempre a casa a mezzogiorno per il pranzo. Di solito gli preparava un panino e poi lui tornava al lavoro. Non mi ci volle molto tempo per capire che anche noi avremmo potuto gustare il cibo che lo Swami cucinava. Così lui cominciò a preparare il pranzo per tutti noi. Oh era tutto così buono. Per noi era un divertimento mostrargli quello che sapevamo dell'America e lui non aveva mai visto cose del genere. Era così divertente portarlo al supermercato. Si divertiva un mondo ad aprire i pacchetti di ocra o di fagiolini surgelati. Non doveva pulirli o tagliarli. Niente di tutto questo. Ogni giorno apriva il freezer e sceglieva le sue cose. Era uno spasso starlo a guardare. Si sedeva sul livano quando passavo all'aspirapolvere. La cosa lo incuriosiva moltissimo e ne parlavamo a lungo. Era una persona così interessante. Ogni giorno c'era quel grande banchetto e mi divertiva un mondo. Era davvero molto piacevole. Lo aiutavo a tagliare le verdure. Lui metteva le spezie e ridevamo. Era una persona piacevole, davvero amabile. Mi sentivo come una figlia per lui e anche se lo conoscevo da così poco tempo, come se fosse mio suocero. Era un amico di mio suocero, ma io mi sentivo davvero molto vicino a lui. Era entusiasta di tutto. Mi piaceva stare con lui. Lo trovavo eccezionale. Dopo pranzo, a luna circa, Prabhupada usciva e andava a piedi fino allo EMCA, dove probabilmente, come pensavano gli Agarwal, lavorava ai suoi libri fino alle cinque. Tornava al loro appartamento verso le sei di sera, dopo che avevano cenato. Mangiavano carne, perciò era venuto più presto del solito. No, scusate. Mangiavano carne, carne, perciò la signora Agarwal aveva l'accortezza di toglierla di mezzo prima che lui arrivasse. Una sera, che era venuto più presto del solito, la signora Agarwal disse «Oh, suo amici, abbiamo cucinato della carne e l'odore ti disgusterà», ma lui rispose «Non vi preoccupate, non fa nulla». La sera si intratteneva con gli ospiti. Agli ospiti veniva offerto del caffè e un rinfresco, ma lui chiedeva un bicchiere di latte caldo alle nove. Restava a parlare fino alle nove e mezza o alle dieci di sera. Poi il signor Agarwal lo riaccompagnava in macchina all'OMCA. Srila Prabhupada faceva il suo bucato ogni giorno. Si lavava gli abiti nella stanza da bagno degli Agarwal e li stendeva ad asciugare fuori. Talvolta accompagnava gli Agarwal alla lavanderia a gettone ed era curioso di vedere come gli americani lavavano e asciugavano i loro abiti. A selli sembrava che egli fosse molto interessato agli americani e al loro modo di vivere. Sally Nostro figlio Bridge aveva sei o sette mesi quando arrivò lo Swami e gli indiani vanno matti per i bambini. Lo Swami era affezionato a Bridge. Era lì quando Bridge si resse in piedi da solo per la prima volta. La prima volta che Bridge riuscì nel suo tentativo, lo Swami si alzò in piedi e applaudì. Fu una festa. Un altro giorno il nostro bambino, che stava mettendo i denti, si mise in bocca alle scarpe dello Swami. Pensai, oh oh quelle scarpe sono andate in giro per tutta l'India e il mio piccolo le sta succhiando. Sapete cosa pensa una madre? Quasi ogni sera andava a sedersi nel cortiletto di un vicino. A volte andavamo fuori un po' con lui oppure restavamo in salotto. Mi ricordo una cosa che accadde con la nostra bambina, Pamela, che aveva tre anni. La portavo all'oratorio e lì le avevano parlato di Gesù. Allora nel vedere Swamiji con i suoi abiti lunghi e tutto il resto, lo chiamò Swamiji Gesù e lo Swami sorrise e disse, e un bambino li guiderà. Era così divertente. Srila Prabhupada parlò a vari gruppi della comunità. Fece una conferenza al Lions Club all'inizio di ottobre e ricevette un documento ufficiale. Attestiamo che A.C. Bhaktivedanta Swami è stato ospite del Lions Club di Butler, Pennsylvania e in segno di apprezzamento per il servizio reso il club gli offre il presente riconoscimento. Fece un discorso anche all'OMCA e al seminario di San Fedele a Herman in Pennsylvania e parlava regolarmente con gli ospiti a casa degli Agawal. Quando il professor Larsen, preside della Facoltà di Filosofia all'Università Statale di Slippery Rock, lesse sul Butler Eagle che era arrivato uno Swami indiano, studioso dei Veda, telefonò a casa degli Agawal per invitare Srila Prabhupada a tenere una conferenza ai suoi studenti. Allen Larsen racconta, avevo chiamato il numero di telefono riportato dal giornale, ma scoprì che in realtà lo Swami abitava in una stanza allo EMCA. Quando arrivai stavo aspettando all'angolo della strada e lo feci salire in macchina. Stava aspettando. Sembrava molto solo. Mentre andavamo a Slippery Rock gli chiesi di dirmi il suo nome in modo da poterlo presentare alla classe. Disse Swamiji Bhaktivedanta e cominciò a spiegarmi che cosa significava. Non ero abituato ai nomi indiani, perciò dovetti ripeterlo diverse volte prima di riuscire a trovare la pronuncia giusta. Non mostrò alcuna impazienza per la mia lentezza. Già da questo primo incontro rimasi convinto che quest'uomo godeva di un equilibrio interiore, di una forza che sarebbe stato molto difficile intaccare. E questa impressione iniziale venne ulteriormente rinforzata nel corso di quella giornata, che fu piuttosto piena. Un centinaio di studenti di varie classi si erano riuniti per ascoltare la conferenza e Srila Prabhupada, nel suo modo così naturale e spontaneo, si incamminò per il corridoio e salì i tre gradini di legno che portavano al palco. Si sedette a gambe incrociate, con la schiena eretta, e cominciò a cantare dolcemente Hare Krishna con gli occhi chiusi. Poi si alzò in piedi e rispose alle domande del pubblico, parlando senza leggio né microfono. Il programma durò soltanto cinquanta minuti e terminò bruscamente con il campanello che annunciava la lezione successiva. Allen Larson. Dopo la prima lettura andai fuori a sedermi su una panchina nel parco dell'università con Swamiji per una breve conversazione. Quando non era impegnato direttamente nella conversazione, ripeteva spesso una breve preghiera, facendo scorrere un rosario tra le dita. Stava seduto a gambe incrociate mentre parlavamo del più e del meno. Disse che gli alberi là intorno erano belli e chiese che specie di alberi sono? Ricordo che risposi, sono alberi per fare ombra. Allora disse che era un peccato che non fossero alberi da frutta, che potevano dare beneficio e cibo alla gente. A luna, Srila Prabhupada tenne un'altra conferenza, poi accompagnò il dottor Mohan Sharma, un membro della facoltà che aveva assistito alla conferenza e la figlia di 16 anni, Mini, alla loro residenza nel campus. Srila Prabhupada accettò latte caldo e frutta secca e quando il dottor Sharma glielo chiese, benedisse la casa e posò la mano sulla testa di sua figlia. Verso le tre il professor Larsen lo riaccompagnò a Butler, Allen Larsen. Sembrava che lo suami volesse presentarsi come uno studioso indiano che era venuto per una breve visita, per un lavoro di traduzione. Non ho mai pensato a lui come a un missionario, tuttavia in quella giornata sentì nascere un profondo affetto per quell'uomo perché si trattava senza alcuna possibilità di errore di una persona retta che aveva trovato la sua strada verso l'equilibrio e la pace, cosa che è davvero molto rara. Le conferenze in Pennsylvania diedero a Srila Prabhupada i primi dati sul modo in cui il suo messaggio sarebbe stato accolto in America. Al Molo Commonwealth di Boston aveva scritto nella sua poesia, sono sicuro che quando questo messaggio trascendentale sarà penetrato nel loro cuore, si sentiranno pieni di gioia e si libereranno da tutte le sofferenze della vita. Adesso quel principio sarebbe stato messo concretamente alla prova? Sarebbero riusciti a capire? Erano interessati? Si sarebbero sottomessi? Già. Ci fermiamo qui. Sarebbero sottomessi? 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 S Grazie a tutti 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 Grazie a tutti